Qual è l'impatto del web e dei social network sull'istituto dell'adozione? Se ne hai parlato durante la tre giorni organizzata a Torino dall'Agenzia regionale per le adozioni internazionali intitolata I legami adottivi ai tempi di internet. La manifestazione si è aperta a Palazzo Lascaris con il convegno sul tema Accudire l'adozione, bambini che crescono in un mondo che cambia. Quale messaggio volete veicolare con l'iniziativa All'ingotto sulle adozioni? Conoscere l'uso di internet, sapere come affrontare i problemi dei ragazzi adottati che cercano le loro origini è un messaggio di accompagnamento, è un messaggio per dire alle famiglie, agli operatori, a tutti accompagnate questi ragazzi, accompagniamoli con la verità e soprattutto prepariamoli.